Siamo qui con un bellissimo gruppo di cinque ragazzi, veramente quattro ragazze e un bellissimo ragazzo, campioni regionali di danza sincronizzata. Siamo qui dietro il palazzo della regione e chiediamo loro come mai stasera qui. Buonasera, sono Enrico, siamo dei ballerini dell'Ognoncral GBM di Cocomoria Cristina. Questa sera siamo qua perché da oggi la nostra insegnante ha inaugurato per fare animazione ogni sabato qua in via Roma al palazzo della regione davanti alla pizzeria Il Purcile. Io so che siete anche dei campioni regionali, cosa mi volete raccontare? Allora, io sono Benedetta, abbiamo vinto il campionato regionale circa qualche mese fa più o meno. Abbiamo ballato a Cagliari, abbiamo vinto in diverse specialità, sempre di danza sincronizzata, categoria over 16, classe unica, sia piccolo che grande gruppo, nella Synchro Battle che è un tipo di categorie. Nel nostro pezzo forte che abbiamo ballato un attimo fa, adesso siamo pronti per un altro sincro. Cosa ci ballate adesso? Parliamo Jungle Monsters. Benissimo, e chi sei? Io sono Martina. Martina, passiamo ancora, conosciamo anche le altre ragazze. Tu sei? Io sono Claudia. E tu cosa ci vuoi raccontare? Io vi racconto che ballo con Cristina da tantissimi anni, sono con lei da 20 anni ormai. Ehi, sei una ragazzina, sei con lei da 20 anni ed è ancora in pancia della mamma. No, sono più grande di quello che sembro. E niente, è una bravissima insegnante e consigliamo a tutti di venire a trovarci in Viale Scusa. Perfetto, avete la palestra là? Sì, ciao sono Alessia e volevo dire soltanto che siamo un gruppo ristretto oggi, ma salutiamo tutte le nostre compagnie, siamo circa 20 ragazze, le salutiamo tutte, compresi naturalmente anche tutta la scuola, siamo tantissime, le salutiamo e le invitiamo anche la prossima volta a venire qui, magari facciamo un'altra esibizione. Grazie mille. Prego. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Ciao.